Prego consigliera per tre minuti nella facoltà. Grazie Presidente, è assolutamente corretto, incentivante nei confronti di chi volesse disinstallare o non installare le macchine, però rilevo che non è un ordine del giorno che possiamo ricevere in questa sede perlomeno, perché vorrei ricordare che anche quando avete presentato la proposta di delibera sulle linee guida avete inserito questa premialità prevista che prevede eventuali sgravi per coloro che decidono di non installare, ma lo stesso parere degli uffici diceva che si ritiene debba essere richiesto il parere del competente Dipartimento Risorse Economiche. non potendo essere supportati dal parere del Dipartimento Risorse Economiche, perché comunque è una particolarità che ha bisogno di questo tipo di parere, proprio perché va a incidere sul bilancio di Roma, anche in virtù del fatto che ci sono moltissime attività, anche con attività prevalente di altro tipo, ma che installano macchine, dobbiamo un attimo farci i conti in casa e vedere se questa disposizione può essere accoglibile magari successivamente. Per il momento votiamo sfavorevolmente. Grazie.